Lavori in corso al punto amico di San Giovanni Valdarno, ma ancora per poco, infatti la data di inaugurazione delle front office dove ci troviamo all'interno del palazzo comunale tra via Rosai e piazza Cesare Battisti, dureranno fino al 5 aprile, prossima l'inaugurazione in questo giorno alle 17.15. 5 anni di progettazione di idee, di come organizzare il nuovo comune e poi un anno e mezzo di lavori. I lavori vennero appaltati nel gennaio 2013, poi un'interruzione nel periodo estivo e quindi il cambio di ditta perché praticamente il fallimento della precedente ha portato a lavorare in questi luoghi. La Coggi di Rignano, la riqualificazione di tutto il resede con affaccio in via Rosai e nuovi ingressi ed uffici per il nuovo comune san Giovannese. Qui si offriranno servizi per la famiglia, per la casa, l'auto, la vita cittadina perché il punto amico si occupa anche dell'informazione e dei servizi al cittadino inerenti a questi argomenti e poi anche per il sociale, gli anziani, la comunità, i diritti e i doveri e le certificazioni. Il logo vede in primo piano un comune aperto, il palazzo D'Arnolfo dove il cittadino è in primo piano ed è un disegno che è il vincitore di un concorso di idee lanciato fra le scuole della città che questo è il disegno vincitore di uno studente delle suore agostiniane, il conservatorio di Piazza Cavoro.